Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico. Sulla Fibili in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve, ci sono rallentamenti nel tratto tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori è chiusa l'uscita di Poggi Bonzi Sud in direzione Firenze. Sulla regionale Duecassia restringimenti di carreggiata a tratti dal km 256 al km 292. Chiudiamo con i treni ricordando che per tutta la giornata di oggi la linea ferroviaria Faentina è chiusa tra Faenza e Marradi, previsti bus sostitutivi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!